Buongiorno a tutti benvenuti nella fiera online di SD sono Franco Cambrini responsabile commerciale della SD oggi vi spiegheremo nel particolare i due principali gruppi operatori che sono l'unità elettromandrino e il gruppo FT o gruppo di taglio a coltello in tutte le loro caratteristiche principali e saliente partiamo appunto dall'elettromandrino allora l'elettromandrino ha delle caratteristiche uniche oggi sul mercato del settore sign communication settore grafico per quello che riguarda la potenza e la flessibilità è l'elettromandrino più potente oggi disponibile in commercio sulla gamma della macchina F150R perché raggiunge la potenza di ben 10 cavalli 10 cavalli è una cosa estremamente importante chiaramente per quello che riguarda l'asportazione di materiali a spessore o materiali rigidi perché questo vi permette di avere delle ottime finiture vi permette di avere un'elevata velocità di taglio e ottime qualità di appunto sul vostro manufatto le caratteristiche salienti di questo elettromandrino sono principalmente non solo la potenza ma anche l'estrema velocità di rotazione esattamente questo mandrino oltre ad avere i 10 cavalli possiede anche 36.000 giri di velocità capite che queste sono caratteristiche uniche nel panorama mondiale per quello che riguarda appunto di questo settore perché normalmente le caratteristiche salienti degli elettromandrini sono quelle di avere un'elevata potenza ma un basso numero di giri o al contrario di avere un elevato numero di giri ma una scarsa potenza quindi noi abbiamo creato un binomio cioè 10 cavalli a 36.000 giri che rende questo elettromandrino unico unico soprattutto anche per quello che riguarda le finiture relative chiaramente anche i materiali plastici che si prestano molto a questa tipologia di lavorazione anche in termini di lucidatura siamo in grado di avere finiture qualitative sulle pareti laterali ad esempio di un flessica seccezionale paritetica quella di un laser se non meglio e a differenza di un laser riusciamo a fare anche delle lucidature parziali cosa che il laser non è in grado di fare quindi questo elettromandrino ha queste caratteristiche principali ma non sono le uniche abbiamo dotato questo elettromandrino di serie di un'unità di raffreddamento quindi un cil di raffreddamento che vi permette di poter lavorare ininterrottamente anche per tutta la giornata senza avere alcun problema per quello che riguarda il fermo del motore stesso sapete benissimo che oggi la maggior parte se non quasi tutti degli elettromandrini viene raffreddato con sistemi ad aria o sistemi con elettroventola fondamentalmente quindi dopo un tot di ore l'elettromandrino potrebbe essere soggetto a fermi a fermi macchina ok perché si deve appunto raffreddare nel caso nostro questo viene assolutamente ovviato grazie a un sistema di raffreddamento liquido in dotazione su tutte le nostre macchine su tutte le nostre gamme per quello che riguarda il suo mandrini noi diamo in dotazione questo elemento qui altro punto salente ed è importante è che cosa la tipologia dell'attacco cioè del cono dove viene inserito l'utensile questo elettromandrino è dotato di un utensile con attacco hsk 40 cioè un attacco di ultimissima generazione che chiaramente ha intrinseco dei valori unici per quello che riguarda la stabilità dell'utensile fondamentale nella lavorazione dei processi di lavorazione a livello qualitativo e il bilanciamento dell'utensile stesso e del cono quindi a differenza un po della concorrenza in generale utilizziamo coni hsk e non coni iso classici che è una tecnologia vecchia di vent'anni ok quindi un altro è l'aspetto fondamentale concludiamo col cuore poi del binomio diciamo fra elettromandrino e cambio utensile perché la nostra macchina viene dotata di serie di un cambio utensile a 13 posizioni 8 per le frese 5 per la lame per i cordoni sul quale elettromandrino va a depositare e a prelevare gli utensili in base ai processi di lavorazione che voi andrete a fare quindi tutti gli attrezzaggi che oggi fate manualmente vengono assolutamente bypassati con un recupero in termini chiaramente produttivi e soprattutto di flessibilità sulla macchina unici e qui concludiamo sulle caratteristiche elettromandrino passiamo al gruppo ft l'ft power è la nuova unità che abbiamo presentato quest'anno si caratterizza appunto per una elevata potenza come dice il nome stesso per quello che riguarda il taglio a coltello che può lavorare direttamente anche questo da programma in modalità fissa o vibrata quindi una caratteristica eccezionale perché oggi quasi tutti devono intervenire manualmente su questa unità a sostituirle in base ai processi di lavorazione sia per quello che riguarda fisso vibrato o anche per l'altezza delle lame quindi anche questo gruppo che appunto è il power vi permette di poter lavorare faccio un esempio chiaramente che non è attualizzabile sul processo di lavorazione su un quadrato un lato in fisso un lato in vibrato direttamente dal programma il tutto può essere asservito anche qui e qui questo è brevettato da parte del nostro ufficio ricerca e sviluppo avete la possibilità di poter cambiare in automatico sul cambio utensile anche questa volta lame e cordoni in base ad esempio lo spessore delle lame o al cordone o una testina riviangolare quindi tutti i processi sono stati unificati con un cambio utensile quindi l'elettromandrino e l'ft power vanno direttamente sul cambio utensile a processare in automatico le vostre esigenze produttive e di programmazione diminuendo chiaramente i tempi ciclo assolutamente acquisendo sempre maggiore flessibilità che è quello che ci richiede fondamentalmente il mercato queste sono le attività salienti l'altra attività unica chiaramente il power il nome power cioè potenza deriva dal fatto che siamo in grado di processare tagli ad esempio su un forex da un centimetro a 10 12 metri di avanzamento e siamo in grado anche di tagliare gomme da 70 short molto ben più dure del nostro amico forex con questo concludo vi ringraziamo nuovamente per la vostra attenzione potete cliccare sul pulsante rosso e saremo sempre disponibili per darvi tutte le informazioni necessarie che ci richiedete grazie tantissimo e buona giornata a tutti arrivederci